Sicuramente positivo, stiamo iniziando a lavorare anche con carichi atletici e di palestra, ci stiamo amalgamando un po' con i nuovi, che sono i benvenuti, si sono messi subito a disposizione e sono già parte del gruppo, quindi sicuramente positivo e si lavora per arrivare a formare un grande gruppo in primis. No, assolutamente, quello che è stato fatto l'anno scorso deve essere un punto di partenza, è stato un anno duro e comunque proficuo, abbiamo messo le basi secondo me per fare qualcosa di importante quest'anno e i ragazzi entrano comunque in un gruppo con delle qualità, con dei principi e comunque si sono messi subito a disposizione, quindi non ci saranno assolutamente problemi.